E' ufficialmente partita la campagna trasferimenti per la Juventus e attenzione perché oggi si parla di un incontro molto importante che su noi può accendere in qualche modo il mercato della Juventus, può accendere anche quelle che sono le speranze di vedere una squadra nettamente migliore rispetto al passato e quindi scopriamo in dettaglio cosa sta succedendo e cerchiamo di capire cosa succede perché Juventus ha accelerato verso quello che è un mercato sicuramente diverso rispetto al passato. Ma che per certi aspetti può anche essere migliore rispetto a quello delle ultime stagioni, quindi scopriamo in dettaglio tutto e cerchiamo di analizzare la situazione qui su FCM Newsporti e come sempre vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende delle vecchie signore, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportateci con un semplice like. Allora andiamo alla notizia perché la Juventus proprio oggi tra stasera e domani evidentemente in queste ore avrà un incontro importante soprattutto Giovanni Manna avrà un incontro importante con chi? Con l'Empoli. Attenzione perché in ballo ci sono non uno, bensì quattro nomi. Si sta cercando infatti di sviluppare una trattativa molto interessante che ha a che fare con giovani e soprattutto con giocatori che possono arrivare alla Juventus ma anche partire dalla Juventus. Vi ho sempre detto che la Juventus sfrutta e non poco la possibilità di avere un reparto, quella del next gen, che può essere molto interessante anche in ottica cessione. È chiaro che l'abbiamo detto tante e tante volte, il primo nome di cui si parlerà è evidentemente il difensore classe 2000 Fabiano Parisi. In questo momento è impegnato con la Nazionale Under 21, è degli europei e stiamo parlando di un giocatore che quest'anno ha fatto, se non è una stagione veramente eccezionale, ha fatto quel salto di qualità che ci si aspettava. Ed è in questo momento nella lista di Giovanni Manna il numero uno tra i tersini a sinistra. A Juventus sta aspettando di liberare Alexandro, sta cercando di liberare l'ingaggio di Alexandro, a quel punto si potrà affiondare sul ragazzo dell'Empoli che secondo me come tersino sinistro, ripeto, è perché gioca nell'Empoli, perché è italiano e perché magari in pochi lo conoscono. Ma vi assicuro che Fabiano Parisi è uno di quei tersini che a me fa impazzire perché fa un po' tutto, cioè fa la fase difensiva in maniera ottima, spinge in maniera molto propositiva, è giovane, ha un ingaggio basso, cioè rappresenta il tersino perfetto che serve in questo momento la Juventus. Solo può usare nella difesa 4 come tersino basso ma anche nella linea 5 centrocampo in un ipotetico 3-5-2. È un giocatore perfetto per la Juventus, arriverebbe a guadagnare pochissimo. Costa 15 milioni, quindi anche lì ho sentito qualcuno che parla di cifre un po' più alte. La valutazione di Fabiano Parisi in questo momento è di 15 milioni. Ma questa non è una novità perché lo sappiamo, Parisi è un giocatore su cui c'è la Juventus e che la Juventus sta adocchiando da un po' di tempo. La Juventus però di contro, come vi abbiamo raccontato, sta cercando di spingere dei giocatori come contropartita. Inizialmente il nome che si era fatto è la Sule, la Juventus su Sule vuole prendersi un po' di tempo per ragionare e invece ora sta spingendo la Juve stessa a inserire un altro giocatore molto giovane che è, come abbiamo raccontato, Filippo Ranocchia, talento classe 2001 che non ha riscattato il Monza perché il Monza aveva la possibilità di riscattarlo per 10 milioni, il Monza invece ha deciso di non riscattarlo a quelle cifre. La Juventus invece sta pensando di inserirlo dando una valutazione di 6 milioni di euro, quindi la Juventus a quel punto ha parlato con l'Empoli, sta parlando con l'Empoli e sta valutando il giocatore 6 milioni e 6 milioni sono quelli di valutazione del giocatore della Juve, quindi ci sono quelli dell'Empoli, ci si può ancora ragionare. Ma attenzione perché la Juventus, da quello che ci risulta, oltre a parlare in questo incontro della situazione Parisi-Ranocchia, vuole sviluppare ancora più quello che è l'ambito giovani perché a Juventus i giovani dell'Empoli piacciono e non poco. E so che molti faranno gli schizzinosi dicendo che i giocatori dell'Empoli, tutto quello che volete, però è chiaro che negli ultimi anni abbiamo visto come forse i giocatori più forti che ha avuto la Juventus sono quelli che sono arrivati da squadre un po' più piccole, mentre i giocatori che hanno dell'uso di più sono quelli che sono arrivati da squadre più grosse. Pensate ad esempio ad Arthur che è arrivato al Barcellona, pensate ad altri giocatori come Ramsey che è arrivato dall'Arsenal, sono tanti i giocatori che sono stati dei cosiddetti flop arrivando da squadre molto ma molto importanti. Ed ecco perché la Juventus sta guardando altri due giocatori dell'Empoli. L'ultimo è un 9 assolutamente a sorpresa che ci ha lasciato parecchio perplessi, ma nel senso che è un giocatore che conosciamo ancora poco, ma su cui la Juventus si è affiondata perché vede in lui delle caratteristiche che gli piacciono. Il primo, oltre a Parisi, chiaramente di cui parlerà Juventus con l'Empoli, è Vicario. Vicario è un portiere di cui abbiamo parlato tante e tante volte, io vi ho detto che personalmente in Italia in questo momento non vedo molti portieri superiori a Vicario, sia in ambito Serie A sia in ambito nazionale. In ambito Serie A chiaramente c'è Magnan, che è un livello altissimo, poi secondo me c'è Vicario. Cioè io Vicario me lo metto allo stesso livello attualmente di Chesney. Chiaro che voi mi direte che Chesney è più esperienza, un gioco più importante, però io vi dico che tra Vicario che guadagna un milione e mezzo e Chesney che prende sei milioni e mezzo, io mi vado a prendere Vicario tutta la vita. Ecco, con Vicario si ragionerà nel momento in cui, cioè Juventus sta cercando in qualche modo di convincere l'Empoli a metterlo un po' da parte della serie. Se noi riusciamo ad avere un'offerta per Chesney, magari della Premier League, in un periodo storico in cui non ci sono molti portieri forti in giro, attenzione, cioè questo può fare la differenza, perché qualcuno mi può dire, eh ma con l'età, 32 anni, chi se lo prende Chesney? È un periodo storico in cui un portieri, cioè se a un anno in questo momento vale 60-70 milioni, evidentemente c'è qualcosa che non va nel mondo dei portieri, perché capisci che forse mancano un po' di portieri di un certo livello. E con uno Chesney in Premier League farebbe la fortuna di tante squadre. Per questo credo che di fronte a un'offerta importante della Premier League per Chesney, la Juventus poi a quel punto si potrebbe fiondare su Vicario. Tra l'altro andando a spedere la stessa cifra, perché Vicario in questo momento vale intorno ai 20 milioni, Chesney, idem, con valutazioni diverse, però Juventus abbasserebbe il monte in gaggio, perché 6 milioni e mezzo di Chesney passerebbe a 1,5-2 di Vicario, soprattutto avresti la coppia Vicario per in, sarebbe un'ottima soluzione. Attenzione perché poi l'ultimo nome di quello di cui dobbiamo parlare assolutamente è un nome che ci ha sorpreso. Stiamo parlando di Jacopo Fazzini, si parla di questo ragazzo come un talento dell'Empoli, il classico talento di cui parlano in pochi, ma che tra gli agenti si parla un gran bene, un centrocampista trequartista classe 2003. Si parla di lui come un futuro piccolo talento dell'Empoli, promettente futuro, ha un grandissimo futuro davanti. Stiamo parlando di un giocatore molto interessante e anche da questo punto di vista, nella chiacchierata che farà con l'Empoli, sonderà il terreno anche per questo ragazzo. Probabilmente rispetto ai primi due nomi, cioè rispetto a quello di Parisi e rispetto a quello di Vicario, Fazzini è più un nome che poi eventualmente, qualora fosse preso, verrebbe mandato in next gen. Mentre Vicario, chiaramente, e Parisi andrebbero in prima squadra. Però l'idea è proprio quella, cioè prendere questi giocatori forti quando, o meglio, giovani e potenzialmente forti, quando magari hanno poco appeal e poi un domani sfruttarli, o per lanciarli in prima squadra, così come è fatto con i vari sulle healing, fagioli e compagnia cantante, o eventualmente con la merce di scambio. Penso per esempio a Dragosin, per esempio in questo momento a Coni de Winter, sono tanti i nomi che l'Empoli può piazzare, e lo stesso Ranocchia. In questo momento l'Empoli ha capito che non è da Juve, perché nel centro-nope l'Empoli c'è una quantità di centro-nope incredibile, quindi un Ranocchia oggi non giocherebbe mai in questo momento l'Empoli, se quindi cosa fa, Juve lo prende, sa che ha degli stimatori e lo mette sul mercato. Quindi i nomi che si stanno sondando sono tre, praticamente l'Empoli, sono Parisi, Vicario e Jacopo Fazzini. Due per la prima squadra, uno per la next gen, considerando sempre che c'è Filippo Ranocchia, che è un giocatore che piace all'Empoli, che potrebbe essere messo sul mercato, per poter abbassare le cifre, chiaramente Ranocchia sarebbe messo nell'operazione Parisi, mentre Vicario sarebbe, in qualche modo, si fa una chiacchierata su Vicario, partendo però sempre dal presupposto che se non parte Cezni, di Vicario non se ne può parlare. Quindi è un modo per dire, se voi ci date l'ok eventualmente per ragionare su un'ottica dei 15-20 milioni per Vicario, noi ci guardiamo intorno anche in ottica Cezni, perché poi non è che le offerte arrivano così, se la società Juventus comunica alla gente di Cezni che si può cercare una squadra, ecco che da lì poi parte quella che è la campagna di offerte, diciamo, della gente di Cezni, cioè Cezni tramite il suo procuratore comincerebbe andare a sondare un po' il terreno con altre squadre per capire se c'è qualcuno, e quindi da lì ti portano l'offerta, la gente stesso che ti porta l'offerta alla squadra di appartenenza, che in questo caso è la Juventus. Quindi secondo me l'idea Vicario può essere intrigante, ma solo se parte Cezni, e poi Fazzini, che potrebbe essere un bel nome per la Juventus next gen. Grazie. 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 Grazie.